Buonasera a tutti, sono Carlo e faccio questa piccola intervista a Luigi Falcone dell'Operativa di Musica. Già abbiamo detto di nome. Tu come ti chiami? Io ti chiedo. Quando sei nato? 13 minuti. Ma quando hai stato stato nell'Operativa di Musica? 18. 8. Ti faccio queste domande che abbiamo già detto. Intenta che se parlano nel manifestazioni, come giusto? Ehm... non ho... Ma non è un giro. Ma non è un giro? In questo modo, alla fine i pazienti. Non è un giro. Il fatto di essere un paio questo... Il detto, sono un passaggio. ... e il passaggio delle altre cose... Noi, ma non è un giro. Quale è la casa che abbiamo lasciato qui? Questo è il vino. E qual'era? Perché ti ha fischiuto di più? No, no, perché mangiamo il vino. No, non c'è il vino. No, non c'è il vino. No, perché io dove... Stavo nella forma, mi pensavo, uno con vino. No, no. Il mio corpore non aveva servito dopo. No, no. E con 20 centri. Quanti tavoli c'erano? Tutto. E chi sta avendo? A te quel giorno? Luce... Marco. Stai passando solo un vetro che stavate. Noi io non ce l'avamo. Sì, ma... Cosa abbiamo servito? Io non ce l'avamo. Ma perché non pregge questo? No, che stavano nella cassetta. Ah, perché stavano nella cassetta? Non riusciva a capire il massimo. L'altra domanda. No, ma com'è occupo il tuo tempo con le scelte sigarette? Eh... Stavano... 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 Cosa cambia il sito locale? Tu piace così com'è? Stavano... 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 Applausi ragazzi. Applausi...